Amici sportivi di Monza Gol, grande vittoria della Monza contro la Salernitana, una vittoria limpida, schiacciante, in discussione soltanto nella prima parte, nei primi 10-12 minuti del secondo tempo. Un Monza molto efficace dal punto di vista atletico, dal punto di vista tattico, una squadra che ha giocato un gran bel calcio, essenziale, veloce, anche in verticale, concludendo molto a rete e collezionando una sfilza di occasioni da gol oltre ai tre che sono stati realizzati. Fa piacere per il calcio di rigore trasformato da Capitan Pessina, fa piacere aver ritrovato una straordinaria solidità difensiva, tanto è vero che il portiere Di Gregorio oggi non ha dovuto compiere neppure una parata. Ha ragione l'allenatore Raffaele Palladino, è un peccato fermarsi proprio in questo momento, ma comunque ci sarà ancora da divertirsi alla ripresa del campionato nel mese di gennaio per le ultime quattro partite del girone d'andata. Un fatto è certo, i due mesi della gestione Palladino sono stati davvero ottimi come numero di punti racconti, ma anche proprio per l'espressione di gioco di questa squadra che scende in campo con coraggio, divertendosi e regalando scampoli davvero di bel calcio che ci auguriamo di poter continuare a vedere anche nel prosieguo della stagione. Adesso la squadra è in vacanza fino al primo di dicembre, poi riprenderà a lavorare a Moncello, non ci sarà nessuna tournée fuori dall'Italia, la squadra continuerà a lavorare qui in Brianza e il tecnico ha espresso l'auspicio di poter giocare delle amichevoli importanti con squadre impegnative proprio per riprendere subito il ritmo e il clima del campionato in vista della ripresa di gennaio. Intanto la classifica sorride, nove punti di vantaggio sulla zona retrocessione, credo che anche il più ottimista dei tifosi avrebbe firmato per una situazione simile. Adesso qualche giorno di riposo per tutti e poi ci ritufferemo naturalmente nel campionato.